buona giornata amici da massimo foghetti vi auguro una buonissima giornata con l'inizio appunto del giorno con le notizie che appaiono oggi sui giornali sono notizie un po' che riguardano le festività natalizie ma anche fatte di cronaca e ovviamente non manca la sanità prima di guardare le prime pagine diamo un'occhiata al santo del giorno e poi al meteo oggi è Santa Caterina di Alessandria Santa Caterina è una santa piuttosto nota ma pochi conoscono la sua storia nacque da stirpe reale era una bellissima fanciulla disse ovviamente ai tempi di Roma antica dell'impero romano era una bellissima fanciulla diceva tratta molto dalla filosofia e poi anche dalla fede cristiana si fece battezzare ma questo suscitò le ire dell'allora imperatore massimino che ordinò fosse legata a una ruota perché la vergine non voleva assolutamente rinunciare al proprio credo era una ruota fornita di uncini che nel supplizio ovviamente strappavano le sue carne però la ruota nel momento della tortura si ruppe e allora a Santa Caterina gli fu tagliata la testa ma anche in questo caso accadero dei miracoli dunque una storia da approfondire una storia così che può fare riflettere e amare questa santa ed ora diamo un'occhiata al tempo e vediamo che le condizioni atmosferiche rimangono perturbate un po su tutta la regione ci saranno precipitazioni nella giornata di oggi diffuse anche a carattere di rovescio e fenomeni più blandi e intermittenti sulla zona sub penninica e anche sulla pianura e sulle coste insomma un tempo un po variato ma il cielo ovviamente oggi è molto scuro ed è ottenebrato dalle nubi ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali a partire dal resto del carlino questa mattina vediamo la sintesi in prima pagina da mesi siamo senza stipendio e a protestare sono i lavoratori dell'attundo che si occupano del trasporto scolastico l'attundo è una ditta in difficoltà da tempo non paga gli stipendi e i lavoratori protestano la protesta dei dipendenti il comune ci chiede di aspettare si tratta di pesaro in questo caso ma anche a fano la situazione non è poco problematica ma così non si va avanti la fotonotizia riguarda sei studentesse straniere che studiano a pesaro però dovrebbero essere rispedite a casa per problemi di burocrazia e ancora il caso questura c'è stato un incontro in regione tra i temi affrontati la nuova sede che non si decide dove farla la necessità di trovare un luogo più moderno e funzionale anche per il commissariato di fano e per quello di urbino infine un problema storico quello della carenza di organico che non consente alla polizia di attuare quel servizio di sorveglianza notte giorno che servirebbe al territorio per quanto riguarda notizia a fondo pagina richiamate dal resto delle carlino vediamo che ora lo scivolo di ghiaccio allestito per le festività natalizie fa un po' arrabbiare i residenti e poi vedremo il perché e per quanto riguarda lo sport un richiamo per il basket vl ufficiale è lamb il rinforzo americano apriamo subito il giornale sulla pagina di fano si accende il natale ma la piazza si blinda ci sarà sabato sera alle ore 20 la cerimonia di accensione delle luci dell'albero di natale in piazza 20 settembre ma la piazza non sarà aperta al pubblico ci saranno solo 300 bambini 300 bambini invitati dal comune tutta la il resto della città potrà così assistere a questa cerimonia proprio guardando fano tv potranno assistere anche i clienti dei locali purché seduti seduti appunto nei bar nei bar piazza dunque transennata e via dello spettacolo sabato sera alle 20 si accende il natale fanese con un magico show che vedrà proprio protagonisti i bambini di fano con le loro famiglie assieme a loro ci sarà anche il piccolo principe che è stato il testimonial della promozione turistica nel corso di questa estate e poi ieri l'assessore agli eventi etienne lucarelli è entrato un po nei particolari di tutto il programma delle iniziative natalizie evidenziando la musica che ci sarà sia al teatro della fortuna dove verrà allestita la bohème di giacomo puccini che rientra nella stagione lirica del comune ma ci sarà anche il classico spettacolo di gospel che è stato organizzato dal fano jazz winter non mancano ovviamente i gospel nel natale ma la novità di quest'anno sono anche i concerti nei balconi di corso matteotti che verranno così eseguiti in due giornate e poi il pincio sarà un po il centro il fulcro delle iniziative natalizie con tante iniziative per i bambini e per gli adulti il pincio trasformato nel villaggio del gusto un bosco per le vittime del covid seri pensa al padre e si commuove c'è anche un albero per il papà del sindaco tra gli arbusti che sabato saranno inaugurati e che comporranno il parco urbano verrà denominato il parco della memoria verrà così inaugurato in via della colonna nei pressi dell'aeroporto di fano nel quartiere del vallato sono 185 alberi che sono stati presentati ieri dall'assessore al decoro che barbara brunori e quale testimonianza dell'affetto della città per quelle famiglie che hanno sostenuto un lutto durante il periodo più duro del covid e purtroppo ancora questi lutti continuano il carnevale stretto tra covid budget si parla di carnevale e anche se siamo nei pressi del periodo natalizio sui giornali questa mattina perché bisognerebbe iniziare la fase preparatoria organizzativa del carnevale ma non si sa ancora se le condizioni della pandemia consentiranno di svolgere la manifestazione i carristi premono perché vorrebbero sapere che cosa devono fare e poi i soldi un po cominciano a scarseggiare perché le iniziative maggiori che servono per tutelare la salute delle persone costano ancora di più quindi ci saranno più spese insomma la situazione è molto molto incerta e bisogna un po attendere per vedere l'evolversi di quello che accadrà tra il oggi e il mese di febbraio quando dovrebbe svolgersi il carnevale a meno che non si sposti tutto ancora una volta in estate a fano l'acqua più cara delle marche ma irpefettari non vanno meglio questa è la denuncia del sindacato cisle che ieri ha fatto il responsabile della sezione fanese giovanni giovannelli e responsabile della federazione dei pensionati luciano rovinelli l'allarme della cisle tutto sta aumentando il carovita veramente sta salendo alla stelle c'è una inflazione molto forte aumentano i beni di prima necessità però la tassazione rimane sempre forte e forse quella di fano è una delle più oppressive di tutta la regione marche tutto sta aumentando ma non le pensioni e redditi da lavoro sempre più schiacciati verso il basso pensate che il 30 per cento dei contribuenti fanesi non ricava un reddito superiore a 10 mila euro e chi sono queste persone sono coloro che hanno un minimo di pensione sono coloro che hanno un lavoro part time oppure sono quelli che lavorano e in estate solo quindi un solo pochi mesi all'anno ebbene per questi la vita si fa sempre più dura pensate che l'acqua è la più cara di tutta la regione marche non solo della provincia ma di tutta la regione marche per due motivi innanzitutto la fascia la fascia la prima fascia quella che dovrebbe costare di meno va da 0 a 20 metri cubi mentre a peso lo va da 0 a 60 quindi molto facili per i fanesi superare questa fascia inoltre il costo proprio dell'acqua della tariffa è la più alta appunto della regione non solo ma abbiamo l'irpef che è aumentata del 2,7 per cento lo scorso anno e scusate la tari che è aumentata del 2,7 per cento lo scorso anno e l'irpef che è lo 0,80 per tutti sia coloro che hanno pochi soldi che invece coloro che stanno bene mentre a pesaro c'è una fascia di esenzione fino a 9 mila euro che coloro che hanno un reddito così basso non pagano l'irpef. Insomma una situazione di disparità che vede fan un po' dal punto di vista fiscale una delle città insomma non certo tra le migliori del territorio. Vediamo una notizia di cronaca testata in campo un calciatore operato al cranio è accaduto a Fraterosa atleta del Torre San Marco colpito dal portiere avversario è trasferito ad Ancona dove è stato sottoposto ad un intervento di urgenza. Parla l'allenatore Anaclerio si sta riprendendo i suoi compagni gli danno gli hanno mandato un video. L'aggressore è stato squalificato per più di due anni fino al 30 dicembre del 2023 un incidente sportivo che forse insomma è determinato da un eccessivo agonismo. E poi c'è un caso anche di estossione a San Costanzo a una donna vittima. All'oppressore sono stati concessi i domiciliari. L'udienza di convalida per il 42enne arrestato dai carabinieri dopo aver incassato 100 euro sotto riscatto. E diamo un'occhiata ora anche alle notizie che riguardano Urbino. Si rinnova il polo universitario penitenziario. L'Ateneo di Urbino è in prima linea nel far laureare gli studenti carcerati. Ci sono iscritti a dieci corsi. Alcuni attendono di discutere la tesi. Il periodo di detenzione si trasforma così in un vero periodo di riscatto perché poi acquisendo una laurea una volta usciti si può rifare una vita nuova. C'è anche una dichiarazione del consigliere regionale Biancani per quanto riguarda la situazione del furlo. Biancani serve chiarezza sul furlo. Il consigliere regionale sollecita risposte sulla messa in sicurezza dell'area sottoposta a rischio frane. E qui vediamo una fotografia che vede la strada appunto chiusa da una barriera. E veniamo sulla pagina di Pesaro. Donne, fermezza e coraggio. Così si vince la violenza. Oggi, lo dicono un po' tutti i giornali da qualche giorno, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In tutte le località si svolgono iniziative. Le forze dell'ordine hanno evidenziato quello che stanno facendo per reprimere i violenti nei confronti delle donne. E oggi appare sul resto del Carlino Eleonora Cognigni, dirigente della squadra mobile di Pesaro. Nessuna si senta in trappola, ha dichiarato. le istituzioni sono vicine. Vestire una divisa, avere un ruolo di alta responsabilità e vivere la propria dimensione di donna che combatte la violenza, anche quella di genere, confermenza, osservanza della legge e l'umanità, sono le caratteristiche appunto di Eleonora Cognini, dirigente della squadra mobile. La violenza più diffusa, ha dichiarato la responsabile, e quella che avviene dentro le mura domestiche. Dal punto di vista investigativo sono i fatti più difficili da denunciare. Perché? Perché bisogna accusare persone molto molto vicine a se stesse, alle proprie famiglie, ai propri figli. Ed è complicato per una donna elaborare un atto del genere. Però ci vuole sempre più coraggio. Nessuno visita a casa. La regione intervenga. È l'appello della consigliera regionale Marta Ruggeri, di 5 Stelle, che annuncia un atto ispettivo. Davvero i medici a domicilio, gli USCA, sono stati dimezzati? Punto interrogativo. L'assessore risponde. È un'interrogazione. Gli viene rivolta in consiglio regionale. Le USCA, vi ricordate, sono quelle unità speciali di continuità assistenziale che sono state organizzate per compiere visite a domicilio. Ma ora queste sono state dimezzate, quasi sono sparite. E proprio in un momento in cui i contagi corrono. Solo ieri in provincia c'erano 54 nuovi positivi con 358 casi attivi nel solo comune di Pesaro. Insomma, la situazione è sempre molto, molto problematica. E ora il virus dilaga nelle scuole. Contagi e allunni in quarantena. All'Istituto Olivieri il Preside Bosio manda a casa tre classi. Altre cinque hanno un positivo. Alla Leopardi, colpita la primaria. La Preside, Lucia Nonni, dà per una classe tamponi in un'altra. E quindi si ricomincia con la didattica a domicilio, la didattica in lontananza. Via San Decenzio riaprirà a senso unico. L'assessore Belloni confida che possa succedere tra una decina di giorni. Queste sono le assicurazioni che sono arrivate dal Ministero. E qui vediamo la foto appunto di Via San Decenzio chiusa al traffico. Intanto sotto il ponte dei Capocini, i primi passi in vista dei lavori. Quest'area non sarà più destinata alla sosta delle automobili, ma vi realizzeremo, dice l'assessore Belloni, una piazzetta al servizio del Bike Hub. Sarebbe un po' la pianificazione della mobilità ciclabile. Quest'ultimo, oltre ad essere un'area servizi per biciclette, avrà anche un punto ristoro, il cui affaccio non potrà essere su una fila di auto parcheggiate. Quindi occorrerà più spazio e quindi più vivibilità sotto il ponte dei Capocini. E qui vediamo la vicenda delle ragazze che sono giunte dall'est e sembra che debbano essere rispedite a casa. Vengono dalla Russia e dal Kazakistan, sono iscritte al conservatorio, rischiano di perdere le borse di studio e di dover ripartire. Sono sei ragazze musiciste del conservatorio Rossini, alloggiate all'Erdist di Pesaro e temono di perdere il loro posto letto e le giornate all'insegna del canto e della musica. Perché? Perché manca una firma cartacea e non telematica che in Russia non si può dare perché in Russia si dà solo quella digitale. Insomma, un problema burocratico di carattere internazionale che però sta avendo degli effetti particolarmente penalizzanti. Non è uno scivolo, è una rampa per i ladri. Insomma, lo scivolo posto in via Curiel sta destando polemiche a Pesaro perché la salita consente a qualcuno di affacciarsi poi alle finestre e anche dei piani superiori. E questo destra preoccupazioni, insomma, dei residenti e dei commercianti della zona. E poi abbiamo il caos di via 11 febbraio, una brutta cartolina di Natale, protestano i commercianti della zona. In 500 metri osservano, abbiamo due cantieri, una strada chiusa e mancano anche i parcheggi, così i clienti scappano. Gli ex dipendenti dell'Attundo, senza stipendi, il Comune ci chiede di aspettare ma è dura. Dopo i guai con la vecchia azienda, sono stati assunti da quella che ha rilevato il servizio cittadino degli scuolabus. I dirigenti comunali hanno assicurato a questi dipendenti che arriveranno i pagamenti degli arretrati, però ci vuole ancora tempo. Insomma, queste persone, questi lavoratori sono stanchi di aspettare. Sono in una quarantina, insomma, non sono pochi. Pensate, hanno poi delle necessità incombenti, hanno delle spese. Arrivano anche le festività e farle senza risorse. È veramente una situazione brutta, penalizzante anche questa. Ricci, terzo mandato ai sindaci e basta con l'incandidabilità. Il sindaco è stato un po' protagonista dell'Assemblea delle PD in Campidoglio a Roma, con Letta. Non si capisce perché solo noi dobbiamo sobbarcarci di tante norme discriminatorie, ha detto il sindaco, comprese le dimissioni obbligatorie per candidarci. Ma non sono solo questi i problemi del sindaco. A parte il tema della tutela, il sindaco ha moltissime responsabilità, ma anche moltissimi rischi. Magari li compie un dipendente, lui è responsabile pur in secondo grado, ma poi passa veramente dei guai. Insomma, la riforma del testo unico degli enti locali va fatta, dice Ricci, e va fatta alla svelta. E poi ancora, con Letta alimentare aiutiamo chi non ce la fa. Sabato torna nei negozi l'iniziativa dedicata alla solidarietà. Basta una scatoletta di tonno, pensate, basta una scatoletta di tonno, di riso, insomma, una scatola di pomodori, qualcosa, per essere protagonisti e aiutare tanta tanta gente. Vediamo la prima pagina del Corriere Adriatico questa mattina. Vaccinati e guariti, libertà totale, ok del governo a Super Green Pass. Dal 6 dicembre Novax, fuori da stadi, ristoranti, bar e discoteche. Acquaroli dice, io faccio la terza dose, ma cambiando sempre le regole si rischiano confusione e tensioni. Ormai la presa di posizione del Presidente della Regione Marche è piuttosto nota. La fotonotizia centrale del richiamo del Corriere Adriatico, prima pagina, è dedicata alla chiesa di San Francesco di Fano, con ancora la discussione sulla sua copertura. E poi le tre notizie a centro pagina. Pesaro, Angherie per vent'anni, il marito ora deve scontarne tre in carcere. Ancora in comune, nel 2022, 25 nove assunzioni, via libera sindacale e Urbino, reclusi ma laureati, nuovo accordo tra Ateneo e Carceri. Un articolo di Gullini. Per quanto riguarda Fano, vediamo subito l'apertura che dedica il Corriere Adriatico. Lo dedica alle dichiarazioni della CISLE. Una politica fiscale ingiusta, tariffe dei servizi altissime. E il sindacato critica il Comune anche per l'IRF massima. Non bastano gli aiuti alimentari. E poi l'articolo di fondo pagina, il bosco della memoria per le vittime del Covid. Sabato alle 9, inaugurazione nella zona di Via Colonna. In tre aree a dimora, 185 alberi. A forte rischio è la prossima edizione del Carnevale. L'articolo di spalla della prima pagina di Fano del Corriere. Il budget basso per il Covid non copre il monte spese. Affidato allo studio alla Politecnica per una copertura trasparente, la chiesa di San Francesco. Una chiesa che è stata diroccata a causa del terremoto degli anni 30. E' stata scoperchiata in questo caso per garantirne la stabilità. La chiesa di San Francesco. La giunta chiede un rilievo architettonico per 12 mila euro. E quindi contatta il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Architettura della Politecnica delle Marche. E poi anche il Corriere Adriatico descrive un po' le iniziative di Natale che prenderanno il Via da sabato prossimo con l'inaugurazione dell'accensione dell'albero in Piazza 20 Settembre. Fossombrone e lavori pubblici. Adesso parte una stagione di nuovi impegni. Il Vice Sindaco Chiara Belli. Una stagione con opere sempre più urgenti per le strade vengono assegnate 500 mila euro. A breve partiranno dunque importanti opere pubbliche nella città metaurense. La sistemazione dei giardini di Viale Cairoli. Il marciapiede di Via Martiri della Resistenza. Adeguamento sismico delle scuole di Isola di Fano e Burgo Sant'Antonio. Adeguamento antincendio della scuola secondaria. E dentro fine mese si progetterà e si finanzierà l'asfaltatura nelle strade per oltre 500 mila euro. Questo è un po' il disegno che ha fatto il Vice Sindaco Chiara Belli. Sulla Val Cesano abbiamo una notizia di Pergola. Un progetto di danza inclusiva. Ultima tappa a Barcellona. Al ritorno l'associazione Isham Anca organizza un workshop alla mole bambitelliana di Ancona. E per quanto riguarda invece Senigallia si parla di shopping natalizio. Pensate ci saranno due ore di sosta gratis. Scatterà il 4 dicembre con le luminarie. Agevolazione in vigore fino al 6 gennaio. Per ottenerla basta inserire una monetina nel parcometro da 10 centesimi. E questa è una facilitazione per avvicinare sempre più i compratori al commercio del centro. E poi invece abbiamo un fatto di cronaca. Operaio quarantenne accecato dalla gelosia. Controlla, pedina e aggredisce la sua ex. Denunciato per stalking. Nei suoi confronti è messo anche un divieto di avvicinamento alla donna. Si tratta di un uomo originario dell'Est Europa. Nei suoi confronti è stato emesso un divieto appunto di avvicinamento. Per mesi ha controllato, pedinato e anche aggredito fisicamente, accecato dalla gelosia la sua compagna. Un altro caso di violenza sulle donne mentre si incentivano le sensibilizzazioni nei confronti di questo problema. Giriamo ancora il resto, il Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro. Vediamo qualche notizia. Siamo ormai in conclusione. Si parla molto dei tempi troppo lunghi per i tamponi. Arriva il drive-in di Pesaro. L'attivazione a partire dal 2 dicembre per due pomeriggi a settimana. Rafforzate anche le USCA e altri medici per rendere operative tre unità. Vediamo invece un giudizio, un commento per quanto riguarda le attività del Natale sulla introduzione del Super Green Pass. Abbiamo quattro personaggi che ne parlano. Sono personaggi significativi. Amerigo Varotti, della ConfCommercio. Adolfo Ciuccoli, della ConfEsercenti. Alessandro Licurgo e Massimo Benedetti che è il responsabile del trasporto pubblico. Valutato un consenso del 99% degli operatori per evitare chiusure. Diamo anche un'occhiata allo sport. Vediamo che la vis si fa forte di Cannavò. Il mio gol per non ritornare nel tunnel, ha dichiarato il giocatore che sta risalendo ai livelli di un anno fa. Lavorando bene, ha dichiarato, i risultati arrivano. Ho sempre dato il massimo e continuerò. Il fano calcio a tifosi speciali. Passione senza confini per i Panthers e gli Ultras che si sono sobbarcati, pensate, 900 chilometri di percorso domenica scorsa per raggiungere Caserta. 900 chilometri tra andata e ritorno. WL, preso l'americano e Doron Lab, ecco l'esterno di 1,93 di altezza. Carriera importante la sua tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ultima esperienza in Polonia. Arriverà nel weekend per rafforzare la squadra. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per la rassegna stampa e questa sera alle ore 20.30 con il TG di Fano TV. Buona giornata. Grazie a tutti.